Il treno regionale veloce, per Alessandria, delle ore 7, è in arrivo al binario 1, ferma a Bazzana, Mon Baruzzo, Cantalupo, poi torna indietro a Incisa-Scapaccino, Nizza-Monferrato, Mon Bercelli, anche se non c'è la stazione, poi si ferma in una galleria a caso, poi Montegrosso, Castelnuovo-Calcea, Montegrosso, Castelnuovo-Calcea, Montegrosso, Castelnuovo-Calcea, Montegrosso, Castelnuovo-Calcea, Montegrosso, Bigliano-Dasti, Rocchetta-Tanaro, Poi fa la breakdance e ritorna a Nizza-Monferrato, ah, ah, rompne in delbole e va a piedi, fai prima, Ciapparat